L'ex presidente egiziano, Oshni Mubarak, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Sharmesheik dopo aver accusato una crisi cardiaca nel corso di un interrogatorio. La notizia è stata diffusa dalla televisione nazionale che non ha fornito altri particolari sullo stato di salute dell'82enne uomo politico. Mubarak, costretto alle dimissioni dopo la rivolta popolare del febbraio scorso, aveva ricevuto un invito a comparire davanti al tribunale del Cairo nel quadro di un'indagine sulla morte di alcuni manifestanti e sull'uso privato di fondi pubblici. Nel marzo del 2010 Mubarak si era fatto operare all'intestino in un ospedale tedesco.